Ophelia Malinov al termine di Italia-Cina non è andata come sperava l'Italia, fuori dalle semifinali il tuo commento? Sì, ci dispiace moltissimo perché penso che non siamo riusciti a esprimere il nostro miglior gioco. Ieri abbiamo fatto tanta fatica, oggi penso che il livello comunque l'abbiamo alzato ma non è bastato. E niente, questo ci fa capire che bisogna lavorare, bisogna stare con i piedi per terra e guardare le cose che bisogna migliorare. Non si è vista la vera Italia in questi due giorni a Nanchino? No, penso che non siamo entrate con lo spirito giusto, o meglio, abbiamo fatto tanta fatica a ritrovarci, a giocare come sappiamo giocare di solito. E questo dopo l'abbiamo pagato perché quando giochi le finali ovviamente devi essere al top e quando poi paghi queste cose fanno la differenza. Adesso c'è un breve periodo di sosta e poi si inizia dall'assio il percorso all'obiettivo più importante della stagione, la qualificazione olimpica di Catania. Sì, dobbiamo portarci dietro, penso a quello che di positivo c'è stato, cercare di riposare in questi giorni e poi ricominciare a spingere al massimo perché abbiamo l'obiettivo più importante, uno degli obiettivi più importanti, quindi dobbiamo dare il massimo. Se dovessi dire qualcosa in cui deve crescere l'Italia dopo questi due giorni che hai visto? Penso che ci è mancato un po' di muro difesa in particolare, perché soprattutto con Turchia e Cina abbiamo visto che difendano tanto. Penso che ci sia mancata la pazienza di rigiocare e magari di difendere qualche pallone in più forse avrebbe potuto fare la differenza.